Quante sigarette fumi al giorno? 40, pochine, dovresti arrivare almeno a 50 per sentire il catarramino nei polmoni, se poi arrivi a 70 con le dita gialle fosforescenti è il massimo. L'unica cosa che mi raccomando non devi fare è mangiare questo, perché questo ti fa bene alla salute, hai capito? Invece, uno che fuma 90 sigarette al giorno è furbo.